A tre anni e sette mesi dalla tragedia arriva la sentenza di condanna definitiva a carico di Arturo Cavallo. Il 36enne di Polla è stato ritenuto responsabile della morte di Franco Apa, 38 anni, e della madre Filomena, entrambi di Tramutola. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato ed ha confermato la condanna ad otto anni di carcere decisa lo scorso anno dalla Corte d'Appello di Potenza. I fatti risalgono al giugno del 2016, quando sulla statale 598 Fondo Valdagri, nei pressi di Marsico Nuovo, l'auto, guidata da Franco Apa con a bordo la madre, si scontrò frontalmente con l'Audi guidata dal giovane automobilista pollese. Il ragazzo dell'Appotentino morì sul colpo. La mamma fu estratta viva dalle lamiere e ricoverata presso l'ospedale di Polla, dove perse la vita una settimana dopo. Ad aggravare fin dall'inizio la posizione di cavallo, sono stati i risultati dei test sul sangue, fu accertata la presenza di alcol, quindi era alla guida in stato di ebrezza. Ora c'è la sentenza definitiva che lo condanna a otto anni di carcere per omicidio stradale, un reato che purtroppo diventa sempre più frequente. Proprio nel Vallo di Diano sono sempre di più gli incidenti causati da automobilisti che si mettono alla guida ubriachi o sotto l'effetto di droghe.